Ciao, sono Roberta, Agnese, Francesco, Mattia, Stefania, io sono Alessio, Maria Francesca, Daniela, Gaia, Maria, Roberta, Erika, Serena, Sofia, Marica, Carmen, Balimai, Giulia, Federico, Maria Cristina, Rosa, Elisa, Giulia, ciao, sono Manuel, Giacomo, David, siamo il social media team di Digit 16, 26 studenti dell'università di Perugia, Urbino e Firenze. Venerdì e sabato racconteremo in diretta la manifestazione, seguiteci e ricordatevi di interagire con noi con l'hashtag ufficiale dell'evento.